La guerriera per eccellenza, Laura Castelli. Allora, ci siete ancora? Non siete scappati? Allora, oggi è in realtà un giorno per cui servirebbe almeno un minuto di silenzio. Oggi è il giorno in cui la Camera ha approvato il decreto lavoro, che è un'altra cosa rispetto al Job Act. Ora vi spiegherò le differenze. Questo decreto è la morte di vent'anni di diritti conquistati con quelli che ancora una volta erano sindacati, erano, e che oggi non lo sono più. E' la cancellazione totale dell'articolo 18, perché hanno escluso la causalità. Cioè tu in un contratto puoi assumere una persona senza scrivere sul contratto perché l'hai assunta. Questo che significa? Che se io, datore di lavoro, domani ti voglio buttare fuori, lo posso fare per qualunque ragione. Qualunque, sorpassando completamente a pie pari l'articolo 18. Così, con uno schioccar di dita. E poi abbiamo anche perso, per cui un altro minuto di silenzio, va fatto sulla formazione. In questo testo di legge la formazione non c'è più. O meglio, il datore di lavoro pagherà solo il 35% della formazione di una persona che fa un apprendistato. Allora, prima l'apprendistato era usato, voi lo sapete bene, come metodo per eludere un contratto normale. Però almeno aveva la formazione, con un 100% di formazione pagata dal datore di lavoro. Perché almeno formiamoli queste persone prima di mandarle a lavorare in un posto qualunque. Oggi no, con questo decreto neanche quello. Perché noi che dobbiamo essere quelli del welfare, perché Renzi ha subito detto due o tre parole fantastiche. Welfare più formazione, scuola-lavoro. E poi arriva questo decreto. E allora la scena che noi abbiamo vissuto in questi giorni era questa. Da una parte i sindacati assenti. E dico assenti perché nessuno si è permesso di alzare la testa. Nessuno. E vi sfido io a trovarlo. Cioè voi avete un amico che vi dice ma non è vero, i sindacati sono battuti. Fatevi portare le prove perché noi non le abbiamo vissi. Dall'altra parte un nuovo centrodestra, quella roba lì che è avanzata a destra, che sta con Angelino Alfano, poverino. Che fa finta di fare una lotta. Una lotta di categoria perché questo decreto non gli piace. Non si è capito neanche perché non gli piace così tanto. In ogni caso ha avuto anche lui modo di dire che sì, mi sarebbe piaciuto farlo diverso, però siccome siamo coerenti lo votiamo insieme a voi. E poi ci sta SEL con Airaudo, che adesso la storia di Airaudo non so se voi un po' la conoscete, sindacalista, uno dei sindacalisti che ha messo la sedia sulla poltrona, poi voleva fare le primarie insieme a Chiamparino e gli hanno detto no scusa tu c'hai il culo sul Parlamento, alla Camera, stai lì perché devi andare in regione. E poi oggi chiede l'accordo con Chiamparino, infatti SEL è in coalizione con Chiamparino mentre l'Europea andrà da solo e mentre in Parlamento fa opposizione. Chiarezza assoluta direi. Beh, loro hanno fatto quelli un po' sì e un po' no. Cioè, critichiamo questo decreto, in effetti non fa così schifo, però ogni tanto dobbiamo dire che siamo diversi, quindi votiamo no. Anche lì una gran confusione. Gli unici coerenti sono quelli del PD, che si sono fatti una lotta interna, perché lì ci sono le vecchie carati che ancora si ricordano che cosa sono i diritti dei lavoratori, o almeno hanno un minimo barlume di quello che succedeva vent'anni fa. E ci sono i nuovi, tipo gli Speranza, quelli che oggi facevano la dichiarazione di voto dicendo cose assurde, attaccandoci in maniera strumentale. Noi abbiamo fatto nient'altro che alzare dei manifesti e metterci delle catene alle mani. Cioè, oggi è morto il diritto al lavoro, con tutti i suoi mandanti, perché quelli che sono lì dentro sono mandanti. Poi arriverà il job act, che così finalmente capiamo che cos'è. E' ancora un'altra cosa, è una delega al governo, cioè è l'antidemocrazia dell'antidemocrazia. Il Parlamento chiede al governo di fare un decreto, che già non è un metodo con cui il Parlamento dovrebbe legiferare, che poi tornerà in Parlamento e noi voteremo. Perché? Perché loro hanno bisogno di scindere delle cose, no? Quindi da una parte hanno fatto il decreto sul lavoro che è semplicemente un aiuto alle imprese, agli imprenditori, ma non quelle buone, quelle cattive, quelle dei loro amici, quelli che non hanno voglia di fare imprenditoria. E poi faranno il job act, che è questa delega, con cui il buon Renzi ci farà questa campagna elettorale. Campagna elettorale che è stata inserita nel documento di economia e finanze. La settimana scorsa ci siamo molto arrabbiati per questo documento di economia e finanze, soprattutto per una cosa. Voi un po' avete imparato a conoscere i temi europei, no? Quindi sapete che cos'è il fiscal compact, sapete cosa sono i limiti europei sul debito pubblico. C'è una legge dello Stato, che è stata fatta col pareggio di bilancio, che permette a un Paese che sta in crisi economica, in recessione, in crisi ambientale, quindi l'Italia, di superare questi parametri. Quindi noi un mese e mezzo fa abbiamo fatto una mozione dicendo siamo in queste condizioni, usiamo quella legge, sforiamo da questi patti europei che avete firmato voi e che nessuno di noi, nessun cittadino onesto avrebbe firmato e facciamo le cose che servono davvero a questo Paese. Facciamo quelle due, tre cose che servono a questo Paese immediatamente, quelle che voi in realtà non fareste mai. Loro ci hanno votato contro questa mozione. Poi arriva il documento di economia e finanze e Padoan, in commissione, alle 22 di sera, chiede la stessa cosa. Noi scioccati, che dice scusa ma ci stai copiando? O sono io che sono filogovernativa o sei tu che veramente non sei più che pesci pigliare. E allora cosa fa? Lui apre allo sforamento del debito pubblico per farsi la campagna elettorale. Cioè mette un piano di rientro dietro questo sforamento che non è nient'altro che gli 80 euro. Qualche agevolazione qua e là, dimenticandosi però tutte quelle che ci ha allevato, la tasi che aumenta dello 0,8, che quindi sono 3 miliardi sulla testa dei cittadini, la pressione fiscale che aumenta, il debito pubblico che comunque aumenta. Quindi lui fa, chiede questo uomo, Padoan lo sapete da dove arriva, no? Arriva dal Fondo Monetario Internazionale e l'autore, io direi, quello che ha ucciso definitivamente Argentina, Portogallo e Grecia, noi ce lo mettiamo come ministro, no? Fantastico. arriva e fa esattamente quello che noi avremmo voluto fare, ma con una maniera diversa, perché ci fa la sua campagna elettorale, non quello che serve a noi. Poteva farci un reddito di cittadinanza, poteva toglierci veramente l'IRAP, poteva abbattere la pressione fiscale, tutte cose che non hanno fatto. Quindi noi oggi siamo vittime, loro, per la seconda volta. Cioè loro ci hanno incaprettati perché hanno firmato il fiscal compact e adesso usano l'unico strumento utile per sforare a questa gogna pazzesca, per farsi la campagna elettorale, cornuti e mazziati. Questo è quello che è accaduto in queste due settimane. Dopodiché c'è la vita reale, quella che ci regalate voi tutti i weekend nelle piazze, noi stiamo in mezzo a voi, l'abbiamo fatto con le sospensioni. Io vorrei raccontarvi ancora questo, giusto per farvi anche un po' sorridere perché sono stata un po' triste questa sera, scusate. Oggi mi chiama la Boldrini e mi dice, cioè il suo ufficio, e mi dice Dovrebbe venire martedì perché la Presidente vorrebbe sentirla per un'altra sospensione. Dico scusa cosa ho fatto? Stavolta non ho fatto niente. E' perché qualche tempo fa avete interrotto la votazione di fiducia sull'Imu Banca d'Italia, che io manco me lo ricordavo più, no? Ma è successo nella storia che un gruppo parlamentare bloccasse le votazioni della fiducia. E io gli ho detto, guardi, riferisca la Presidente che veramente non ho voglia di andare da lei per spiegargli perché ho fatto un gesto come questo. Arrivederci e grazie. Comunque ci sospenderanno ancora. Quindi ci vedrete ancora, non scompariremo, ci vedrete in mezzo a voi, nelle piazze, magari ancora col camper, magari no, insomma decideremo. Però questo è quello che è diventata la nostra Repubblica. Un re, Re Giorgio, che ci ha raccontato Ivan, non possiamo pensare che è normale, non possiamo chiudere gli occhi e definire questo metodo un metodo normale. Perché se abbiamo il 25% di questo paese e se 9 milioni di elettori hanno fatto una X sul Movimento 5 Stelle, io, voi, tutti noi abbiamo il diritto di fare quello che vogliamo come opposizione. Quello che vogliamo. Non mi puoi dire che la mia maniera di manifestare non va bene perché l'hai deciso tu. Non mi puoi dire come hai fatto oggi che non posso mettermi una catena alle mani. Perché non è il giusto modo di dire che non sono d'accordo su un decreto che tu non hai mai letto, non hai capito e che non te ne frega niente. Quindi questo è quello che accade. Noi però vi terremo aggiornati, vediamo che ci state seguendo tantissimo, quindi io lo dico sempre, anche se non ci conosciamo, ci vogliamo bene, ci sentiamo una famiglia e questo è l'importante. Grazie.